Amici di Sport Today, oggi sono in compagnia di Josefa Idem. Ciao Josefa. Ciao, come stai? Molto bene, tu? Tutto bene, grazie, grazie mille. Un grande esempio per lo sport, per la vita a livello mondiale. So che di recente hai partecipato al primo festival dello sport organizzato da Trentino sviluppo, hai parlato di allenamento mentale. Se ne parla tanto in questo periodo, qual è il tuo punto di vista? Allora, tanto per mettere una cornice al tema, ritengo che la preparazione mentale sia molto importante. Il fatto di averci pensato e averla curata, la preparazione mentale, è davvero un aspetto che può fare la differenza. E poi ovviamente c'è modo e modo ad affrontare queste questioni. E lì poi comincia la lite tra mental coach e psicologi sportivi, eccetera, e lascio quella lite ai rappresentanti del settore. Io mi sto preparando per diventare psicologa sportiva, sono laureata in psicologia, però lascio la lite ai rappresentanti del settore e dico che è molto importante tenere conto di questo, perché si possono attivare dei potenziali di prestazione che altrimenti non si attiverebbero. Tu l'hai provato sulla tua pelle dopo l'Olimpiadi di Sydney, ti sei affidata al professor Vercelli e ti sei definita un po' come una mongolfiera. Allora, diciamo così, ho utilizzato una metafora e ho sempre usato molto le metafore per convincermi di mettermi in gioco sempre di più, per spostare sempre di più dei limiti che sono tante volte proprio anche solo nella testa delle persone o erano solo nella mia testa. Poi però sono arrivata al 2012 e nel 2012 c'è stato un effettivo limite che era alla mia età, avevo 48 anni, ero veramente alla frutta, ero stanca e poi una vita assai complessa, con stanchezze antiche e allora ho detto io devo adoperare il principio della mongolfiera perché la mia vita ormai era diventata talmente complessa, le aspettative comunque pesavano su di me e io tutte quelle cose che gravavano sul mio stato d'umore le ho immaginate come quei sacchi di sabbia che si attaccano alle mongolfiere e ho detto vabbè le butto giù. Non sono tenuta a portarmi a spasso questo peso e ho mentalmente, idealmente, buttato giù tutto quello che poteva essere pesante per permettere alla mongolfiera di spiccare il volo. Mi sa che ascolterò il tuo consiglio tante volte e butterò giù le zaborrine. Alla fine siamo liberi di scegliere, di farci pesare le cose, non farci le pesare e con ciò non voglio semplificare, ci sono cose che sono pesanti e tragiche e difficili ma non tutto è così, a volte siamo anche un po' troppo drammatici. Tu hai iniziato a seguire il tuo sport diciamo con più agonismo, tardi a livello di età perché prima eri molto concentrata sullo studio, anche questa è una cosa molto interessante del tuo percorso di vita. Io mi chiedo... In realtà la cosa è un po' diversa perché non era esattamente lo studio che mi era andato piuttosto male perché ero anche mal consigliata e poi ero un po' pigra da studente poi dopo però a un certo punto ho detto adesso è il mio futuro però ci devo pensare e ero davvero anche divisa tra il fatto di fare una formazione professionale che mi desse da mangiare a termine carriera perché parliamo dei tempi dei dinosauri 84-88 e anche l'andamento e allora lì divisa tra questi due compiti non ce l'ho fatta a rendere anche in canoa. Poi quando ho iniziato a dedicarmi assieme a mio marito perché la vera svolta nella mia carriera parte nel momento in cui ho iniziato a lavorare con mio marito e allora lì dopo ho iniziato ad andare bene ho fatto subito la precisione perché da giovane proprio non spiccavo per essere una studentessa eccellente. No però hai preso delle decisioni che magari al giorno d'oggi dei ragazzi non prendono e tante volte io mi chiedo se arriva a fine del liceo con tantissime possibilità di studio ci sono tantissime facoltà però forse non si sa bene realmente dove indirizzarsi non si sa bene dove posizionare anche lo sport all'interno di un percorso secondo te in Italia si può migliorare sotto questo punto di vista cercando di far crescere lo sport parallelamente a quella che è l'offerta per la formazione? Allora hai toccato un tema molto interessante che mi appassiona tantissimo parlando dello studio e delle opportunità in seguito allo studio all'università sport e conciliazione carriera duale eccetera cominciamo a toccare questo tema si apre il vaso di Pandora però cerco di essere molto molto sintetica innanzitutto credo che a termine di una carriera liceale la scelta di cosa fare sia estremamente difficile e per chi fa sport e per chi non lo fa perché purtroppo abbiamo un sistema a scuola che non insegna ad amare lo studio e allora si cerca di comprendere la strada meno peggio di quelle che sono a disposizione e si fa fatica a scegliere perché non c'è un piacere intrinseco nell'approcciarsi allo studio per costruirsi un percorso di vita e questo vale per chi fa sport e per chi non lo fa poi per chi fa sport è molto difficile conciliare due ambiti che richiedono un impegno esclusivo lo studio richiede un impegno esclusivo lo sport lo richiede è così a prima vista ma in realtà le cose si possono conciliare in tempi dilatati con concessioni perché se io sono tre settimane non ritiro in Cina e non posso seguire le lezioni perché non posso seguire le online nella mia università quindi sono percorsi duali che sono da concepire devo dire che in Italia si sono fatti dei passi enormi avanti però resta sempre molto difficile per gli atleti conciliare le carriere perché sono anche molto stanchi corrono da un lato del mondo all'altro magari hanno anche già delle sponsorizzazioni chiedono di essere sistemati per la vita è un lavoro proprio di life coaching life skill coaching che c'è da fare sui giovani atleti che vogliono anche studiare e debbano anche studiare a mio avviso io so che chi ha fatto il tuo sport resta comunque molto affezionato a quella che è l'attrezzatura che ha utilizzato per tanto tempo tu vai ancora in canoa ti capita di rilassarti oppure basta? ma rarissimamente rarissimamente perché il lago è molto lontano per me ho 20-25 minuti di strada prima di arrivare al lago sì che faccio molto sport praticamente tutti i giorni ma non in canoa e poi per quanto riguarda la canoa ovviamente la mia canoa olimpica ce l'ho ancora si è passati fra l'altro per i nostalgici dai vecchi kayak in legno che erano delle vere e proprie opere d'arte il primo mondiale il primo mondiale l'ho vinto con una barca danese fatta di legno sì e poi adesso si è passati alla fibra di carbonio pensi che si è arrivati al limite dell'evoluzione tecnologica oppure si potranno fare ancora passi da gigante? allora c'è molto mercato sulla costruzione delle canoa dicono che stanno facendo anche delle ricerche ci sono delle pseudoricerche bisognerebbe fare una buona distinzione tra la vera ricerca che poi restituisce un buono scaffo e quello che è il business ogni anno si inventa un nuovo scaffo pur di venderli però poi non investono nella ricerca abbastanza quindi ci sono dei margini diciamo così io ti ringrazio per avermi dato la possibilità di intervistarti è stato per me un onore è stato un grande piacere per me grazie in bocca al lupo per il tuo futuro crepe il lupo grazie